benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di spazio per tutti questa sera si parlerà di luna e abbiamo con noi due amici del gruppo Astrofi Liguri Polaris che sono Luigi e Franco Luigi ci racconterà un sacco di curiosità sul nostro satellite e Franco ci avrebbe dovuto far vedere live delle riprese della luna ma qua in Liguria il meteo oggi è pessimo e a questo punto io non rubo altro tempo alla serata ricordo a tutti che noi seguiamo sia i social sia la chat di zoom quindi se avete domande da fare scrivetele lì noi le giriamo tempo permettendo ai relatori non ho nessun'altra comunicazione di servizio e quindi niente lascio la parola a Luigi Luigi a te la parola ci domandiamo quanto sarebbe grande la terra in confronto alla luna usando questa scala quanto sarebbe grande il pallone che dovrei andare a prendere per avere una terra nella stessa proporzione adesso non è il caso che adesso lo scriviate nella chat ognuno pensi più o meno quanto farebbe grande o piccola questa terra io adesso ho preso un'altra palla che dovrebbe che rappresenta la terra nella stessa scala ecco questa qui un pallone da 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 pallacanestro è in proporzione grande come la come la terra e la luna in questa scala quindi vediamo che la luna per quanto sia grande come satellite è uno dei satelliti più grandi del sistema solare non è il più grande ma fra tutti i satelliti che ci sono nel sistema solare uno dei più grandi però vediamo in questa scala che è molto più piccola della terra circa e mezzo tra l'altro io ho scelto un pallone da pallacanestro proprio trovandolo azzurro in modo che fosse abbastanza simile al colore degli oceani quindi questa qui è la dimensione la proporzione che noi dobbiamo tenere presente iniziamo la luna stasera ci va un po' di traverso perché pensavamo di osservarla al telescopio direttamente invece abbiamo un po' la luna di traverso perché ci tocca guardare fotografie e immagini che sono state prese in precedenza dicevamo che il diametro della luna è circa 3.400 chilometri mentre quello della terra 12.700 quindi se la vediamo sul monitor sullo schermo questa è la dimensione della luna e questa qui è la dimensione della terra però adesso vi ho fatto vedere anche con la pallina da tennis e il pallone da basket vi ho fatto vedere la proporzione fra i due corpi tra i due oggetti ci chiediamo quanto è distante la luna da noi a noi appare anche abbastanza grande spesso quando la guardiamo soprattutto nelle serate in cui è piena appunto quando quando la vediamo sorgere dietro i monti e ci appare abbastanza vicina in effetti è il corpo celeste più vicino a noi però è molto lontana in termini di proporzione rispetto alla terra se questa fosse la distanza adesso abbiamo rimpicciolito la luna la terra che qui sulla sinistra è diventata una sfera molto più piccola la luna sarebbe molto più piccola all'estremità di destra dello schermo quindi vediamo che la luna oltre essere parecchio più piccola della terra è anche molto lontana la distanza è di circa 384 mila chilometri che tradotto in diametri terrestri sono circa 30 volte il diametro della terra questo vuol dire che se noi avessimo la luna e la terra su questa linea dovremmo metterci 30 terre in mezzo per arrivare alla luna quindi effettivamente è un corpo che è abbastanza è il più vicino a noi ma comunque le distanze sono molto grandi e quindi questo ci fa capire anche come è stato difficile raggiungere la luna quando ci sono state le esplorazioni umane e ancora oggi quanto è difficile anche quando si mandano delle sonde o dei robot questa è un'altra immagine che rappresenta la terra questo pallino azzurro e la luna invece all'estremità di destra sono indicate tre posizioni per la luna perché in realtà la luna compie un'orbita ma non è perfettamente circolare è una forma ellittica la forma dell'orbita quindi ci sono momenti nel corso del mese lunare in cui la luna è più vicina a noi e momenti in cui è un po' più lontana quindi la distanza che si indica dei 384 mila chilometri in realtà è una distanza media che può variare da circa 356 mila a poco più di 400 mila vi faccio notare che c'è un piccolo annellino porpora intorno alla terra quello lì rappresenta l'orbita della stazione spaziale dove vanno gli astronauti per cui gli astronauti sono nello spazio ma vediamo che sono estremamente vicini alla terra mentre la luna è molto molto più lontana questo secondo cerchio rappresenta le orbite dei satelliti del gps quindi dei navigatori che abbiamo satellitare che abbiamo in auto o anche sul cellulare mentre i satelliti geostazionari orbitano su quest'orbita più verde che è un pochino più lontano comunque è tutto molto più vicino a noi di quanto non sia il nostro satellite un fenomeno della luna abbastanza noto, conosciuto e importante è quello delle fasi che cosa significano le fasi? quindi la luna compie un'orbita intorno alla terra e quindi gira intorno alla terra e viene illuminata dal sole in maniera diversa nel corso del mese ora noi dobbiamo immaginare questa linea grigia che è l'orbita della terra il percorso che viene seguito dalla terra nell'orbita intorno al sole il sole è in a dobbiamo immaginarlo in alto molto più lontano da noi e qui vediamo rappresentati in giallo solo i raggi della luce solare che riceviamo se noi iniziamo la terra si muove verso destra parte da sinistra si muove verso destra all'inizio del mese lunare la luna è cosiddetta nuova cioè si frappone fra noi e il sole non è sempre allineata perfettamente perché quello è solo il momento in cui si ha un eclisse perché la luna oscura il disco del sole però diciamo è dalla parte del sole noi la vediamo in quella direzione e siccome la parte illuminata della luna è la parte dall'altra parte verso il sole noi vediamo l'emisfero notturno quindi di fatto non riusciamo a vederla nel cielo mentre orbita intorno a noi compie nella seconda immagine un piccolo tratto della sua orbita e quindi vediamo in gran parte l'emisfero che non è illuminato dal sole però vediamo una piccola iniziamo a vedere che l'emisfero che noi vediamo inizia a essere illuminato e quindi come vediamo in questa seconda immagine c'è una piccola falce di luna che viene illuminata attenzione noi della luna vediamo sempre solo un'unica faccia ma mentre la luna orbita intorno a noi viene illuminata tutta dal sole non è che esiste una metà della luna che non vede mai il sole e una metà che la vede sempre periodicamente riceve tutta la superficie della luna riceve i raggi del sole quando ha compiuto la luna un quarto della sua orbita intorno alla terra noi della metà della faccia che noi vediamo vediamo metà illuminata e metà no ed è il momento che noi indichiamo come primo quarto è quello che cadeva più o meno in questi giorni e che è uno dei momenti migliori per osservare la luna via via che la luna prosegue nella sua orbita vediamo che si illumina via via una fetta sempre maggiore del disco lunare finché poi quando la luna è completamente dalla parte opposta al sole abbiamo la cosiddetta luna piena tutto il disco della luna che noi vediamo viene illuminato dal sole ovviamente la luna prosegue il suo moto intorno alla terra per cui iniziamo a vedere una fetta dell'emisfero notturno della luce che tramonta sulla faccia che vediamo e quindi a un certo punto vedremo soltanto metà della luna illuminata quello è il momento dell'ultimo quarto la luna prosegue il suo percorso e a un certo momento vedremo una piccola falce la falce che vedremo all'alba poco prima del sorgere del sole finché poi la luna compie un giro intorno alla terra completo per cui ritorna ad essere una luna nuova cioè non la vediamo perché in realtà ci rivolge una parte che è l'emisfero che in quel momento è nella notte quindi questo qui è il motivo per cui si alternano le fasi del cosiddette fasi lunari si parte da un momento in cui la luna di fatto non è osservabile arriva a essere osservabile sempre più diventa piena e poi ritorna a diminuire finché poi sparisce nuovamente la luna vi dicevo prima che non è sempre la stessa distanza da noi ci sono momenti in cui è più vicina e quello viene detto il momento in cui è più vicina a noi e poi c'è il momento in cui è più lontana e la vediamo quindi leggermente più piccola ma nel corso dell'anno questo qui è un esempio di una tabella presa dal 2018 le distanze minime e massime non sono sempre le stesse variano nel corso dell'anno di mese in mese per cui la luna non è costantemente alla stessa distanza da noi e questo è l'effetto dell'influenza sull'orbita della luna non solo della forza di gravità della Terra ma anche degli effetti di tutti gli altri pianeti che seppur in minima percentuale contribuiscono a rendere il movimento della luna molto complicato vedete che per esempio nel corso del 2018 si era passati a gennaio da una distanza minima di 356.000 km a una massima di 406.000 mentre verso la fine dell'anno la differenza era passata quindi inizialmente la differenza era di quasi 50.000 km a ottobre, tra ottobre e novembre era stata solo di 35.000 nel corso della stessa orbita questo fa sì che la luna anche se a occhio nudo ci sembra sempre uguale quando la osserviamo come dimensione in realtà ci sono momenti in cui quando è al perigeo quindi il punto più vicino a noi ci appare più grande e quando è più lontana da noi all'apogeo ci appare più piccola quindi una stessa luna piena che avviene in momenti dell'anno diversi in cui la luna è al perigeo o all'apogeo la luna pur essendo sempre piena può apparire abbastanza diversa come dimensione diciamo che normalmente a occhio nudo non si riesce ad apprezzare questa differenza quindi talvolta abbiamo letto su giornali o su notizie via internet che accadeva una luna piena particolarmente grande quindi eccezionale ma diciamo che questo è vero periodicamente la luna è un po' più vicina quindi appare leggermente più grande ma diciamo che a occhio nudo di fatto non si riesce a percepire questa differenza comunque la differenza nel diametro è di circa il 14% quindi possiamo vedere che ci possono essere delle differenze sensibili smetto la condivisione del monitor passerei la parola a Franco che è il vero astrofotografo del gruppo e quindi ci racconta qualcosa sulle immagini sulle fotografie e cosa possiamo osservare grazie Luigi però per me sono prontico il video nel frattempo è arrivato il video siamo riusciti a trasferire il video quindi fai il video fai io il video d'accordo il sistema solare dei primordi era decisamente più caotico molto diverso da quello che oggi noi conosciamo i grandi pianeti non avevano ripulito ancora le loro orbite e moltissimi asteroidi e pianetini vorticavano freneticamente attorno al sole si pensa che circa 4,5 miliardi di anni fa un pianeta chiamato Theia più o meno delle stesse dimensioni di Marte si sia scontrato con la nea formata Terra nello scontro Theia è andata completamente distrutta e i numerosissimi detriti incandescenti derivati dall'impatto sono entrati in orbita attorno alla Terra costituendo un vero e proprio anello di frammenti provenienti dalla crosta di entrambi i pianeti la forza di gravità terminò l'opera aggregando i detriti e portando così alla formazione della Luna come la Terra la Luna ha avuto un'infanzia molto turbolenta subito dopo la sua formazione mentre la sua superficie andava progressivamente raffreddandosi e solidificandosi una pioggia di asteroidi incominciò a colpirla scatenando un turbinio di attività vulcaniche un grande asteroide si andò a schiantare vicino al polo sud lunare creando uno dei più grandi crateri di impatto sulla faccia nascosta della Luna questi impatti hanno provocato la risalita di lava fusa sulla superficie lunare la lava espandendosi e poi raffreddandosi ha creato quelli che noi erroneamente chiamiamo oceani lunari perché ci appaiono come ampie zone scure su una superficie relativamente più luminosa la Luna e l'intero sistema solare stavano attraversando un periodo di grande instabilità dovuto al cosiddetto intenso bombardamento tardivo avvenuto circa 4 miliardi di anni fa e durato oltre 300 milioni di anni la Luna continuò a essere colpita da asteroidi più piccoli che resero la sua faccia butterata come vi abbiamo già spiegato non abbiamo potuto farvele vedere in diretta e allora cerchiamo di simulare come prima cosa vi faccio vedere un video che ho girato e poi vi spiego il perché che vi fa vedere come si vedrebbe la Luna se si avesse l'opportunità di mettere l'occhio all'oculare di un telescopio si vede questo effetto di movimento che è quello che è provocato dall'atmosfera che essendo molto instabile a causa delle diverse temperature dei vari strati genera una deviazione della luce quindi dell'immagine che arriva a noi questo è un grosso problema per l'osservazione dei corpi celesti dalla Terra e viene superato mediante degli accortimenti per esempio per la fotografia aspetta io devo togliere un attimo una cosa di qua ecco per fare le fotografie in genere dei corpi planetari cosa si fa? si fa un video come questo poi ci sono degli appositi programmi con i quali si possono estrapolare i fotogrammi migliori cioè quelli che sono più fermi questi programmi fanno la somma dei fotogrammi e si ottiene come se si facesse una lunga esposizione del soggetto che si vuole fotografare in questo caso la Luna ecco adesso passerei aspetta devo chiudere ecco in questo caso vi faccio vedere una aspetta torno dietro scusate un altro video ho avuto occasione di fotografare la stazione spaziale mentre passava davanti prospetticamente davanti alla Luna adesso ve la faccio vedere più rallentata qui in alto la vedrete sorgere e piano piano muovo i fotogrammi ecco lì che spunta la vedete qua in alto questa l'ho fatta circa due anni fa ecco in questo modo la potete vedere invece in un fotomontaggio è una linea scura che sarebbe la parte in ombra dei pannelli fotovoltaici della stazione spaziale la parte bianca è la zona che era illuminata e ha attraversato in questo modo la parte superiore della Luna qui la vediamo un po' più ingrandita anche se ingrandendo ovviamente la qualità dell'immagine un po' si deteriora però forse si vede meglio a questo punto parliamo un attimo dei mari per mari cosa si intendo? si intendono quelle zone scure che anticamente sono state definite mari perché quando ancora non veniteva il telescopio chi vedeva la Luna con un occhio nudo ha immaginato che le zone più chiare fossero terra immersa e le zone scure mari invece poi ovviamente con l'era del telescopio si è scoperto che questi non erano mari ma semplicemente zone più scure perché sono state riempite dalla lava che è fuoriuscita dalla Luna durante la sua formazione ecco qui ho elencato i mari principali il mare Crisium hanno tutti i nomi latini mari delle serenitatis della fecondità della tranquillità in questo mare è atterrata l'Apollo 11 la prima la prima missione con la quale sono potuti scendere sulla Luna gli uomini il mare Imbrium l'oceano del Tempeste Frascellarum quello delle isole e delle nuvi degli muri ecco qui in fondo ho voluto evidenziare Tico che è un pianeta che è un cratere perché l'ho voluto evidenziare perché ha una particolarità che durante l'impatto che l'ha formato è stato così violento che ha provocato un getto di materia in tutte le direzioni che sarebbero queste strisce più chiare che si vedono in tutte le direzioni addirittura hanno superato l'equatore della Luna sono arrivate anche fino in questa zona adesso ve lo farò vedere poi in dettaglio ecco questo è Tico che non è tra i cratteri più grandi perché è circa 85 km di diametro però ha avuto quella particolarità qui vedete altri cratteri che ho evidenziato i principali di questa foto Pitatus e Clavius Clavius è un grosso cratere che ha un diametro di circa 240 km quindi è notevole pensate che la distanza in linea retta tra Milano e Bologna è 200 km quindi potete immaginare quanto è grande allora questo invece è Tico è ripreso da un astrofotografo che si trova in rete che mi ha concesso di usare le sue foto così come altri e si vede il picco centrale che è molto alto questi picchi il picco si genera durante l'impatto per una reazione all'impatto stesso c'è un'azione contraria e si forma il picco centrale che è alto 1500 metri l'impatto che adesso qui si è inceppato ecco si torna con dietro scusate c'è qualche problema sulla tanto per andare avanti con i problemi scusate ecco qui si vede meglio Clavius il cartiere di cui vi parlavo prima che ha all'interno altri cinque piccoli crateri che si sono logicamente formati in epoche successive questo cratere è molto antico si stima che sia abbia un'età di 3,8 3,9 miliardi di anni e quindi vuol dire che si è formato poco dopo la formazione della luna stessa e si è riempito di lava perché la parte predominante è pressoché liscia e poi è stata bombardata successivamente da ulteriori corpi celesti asteroidi o meteoriti che hanno generato questa collana di di crateri qui abbiamo un altro Longomontanus che è un altro cratere molto importante perché ha una una notevole diciamo il dislevello tra la cresta tra la cresta e il fondo è di circa 4.000 metri ecco questa è una foto invece che rappresenta la la parte sud ovest della luna come si vedrebbe al primo quarto questa è una foto che ha fatto il nostro socio Marco Gabrielli seguiamo capisco perché di tanto si inceppa in quest'altra foto vediamo la parte dal centro a nord del primo quarto e da qui poi passiamo a quest'altra foto che è molto interessante anche questa è stata fatta dal nostro socio Marco Gabrielli e rappresenta questi tre crateri messi in sequenza Teofilus è anche questo molto caratteristico anche questo ha un dislevello tra la cresta del cratere e il fondale di oltre 4.000 metri circa 4.100 metri e un picco centrale che adesso vedremo meglio in una foto più dettagliata che è 1.400 metri ecco questa è un'altra foto molto dettagliata ad alta risoluzione di questo cratere e vi fa vedere come è articolato questo picco addirittura ha 4 cime di altezza variabile la più alta è 1.500 metri e qui si può anche apprezzare l'altezza della cresta del cratere guardando la sua ombra che viene proiettata all'interno e quindi si vede che è molto se si considera che il diametro di questo cratere è di circa 100 km e quindi la sua ombra chiaramente l'ombra dipende dalla posizione del sole in quel momento però è notevole e quindi dimostra quanto è alto la cresta pensate che le nostre montagne delle Alpi sono sui 4.000 metri chiaramente qui non esiste il livello medio come sulla terra che c'è a livello medio marino le altezze vengono sempre diciamo calcolate dal fondale del 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 cratere stesso in questa vediamo ancora la luna poco dopo il primo quarto ed è interessante soltanto per farvi vedere questo cratere Plato sarebbe Platone anche questo è il nome latino questo è uno dei più bei crateri dal punto di vista proprio estetico e lo vediamo qui sempre in una foto ad alta risoluzione anche questa che ho potuto prendere da un sito di astrofotografi in cui si vede il fondale il fondo che è completamente riempito di lava che si è riempito durante la formazione della luna essendo questo un cratere vecchio anche questo stimato di età tra i 1800 3 miliardi e 800 milioni di anni circa le caratteristiche sono le ombre che sono molto apprezzate da noi astrofili quando facciamo le osservazioni perché è un cratere che si può osservare facilmente senza fare le ore piccole perché è visibile bene tra poco dopo il primo quarto quindi in ore ancora accettabili e sono molto belle queste ombre quando si possono osservare dal telescopio in questa foto si notano anche queste cime soprattutto questa che vi faccio vedere col puntatore che si chiama Monspico ed è un monte che è alto 2400 metri anche questo probabilmente si è formato a causa del materiale d'impatto che è stato poi diciamo che è ricaduto sulla stessa luna e si è stabilizzato qui queste altre creste sono chiamate Monti Tenerife e sono più piccole sono più basse sono sui 1200 metri ecco la differenza di altezza si può proprio notare dall'ombra che proiettano i due i due picchi questo vedete che è molto più lunga infatti 2400 metri queste sono minori perché è circa la metà ecco un altro cratere interessante per la sua conformazione è questo che si chiama Copernico intitolato Copernico qui ce n'è un altro Eratostene e questa catena di monti alla quale è stata data il nome di Monti degli Apennini come fossero terrestri come fossero dell'Italia diciamo passiamo oltre vi faccio vedere Copernico ad alta definizione questo ha dei picchi più ridotti rispetto agli altri perché anche questo si è riempito parzialmente di lava qui abbiamo un'altra zona abbiamo il cratere di nome Cassendi che è proprio al bordo del mare Umorum con tutte conformazioni molto interessanti un altro cartiere molto particolare è questo Schiller che ha questa strana forma ci sono due teorie per la sua per cui si sia formato in questo modo qualcuno ipotizza che sia la somma di due impatti molto vicini ma forse diciamo un motivo più veritiero è che è stato causato da un corpo celeste molto radente per cui invece che avere un impatto pressoché verticale ha causato questa strisciata ecco qui vediamo di nuovo anche se meno in risalto perché è completamente illuminato tico quello che abbiamo visto prima però si notano anche qua le ragiere qui abbiamo altre conformazioni anche questo Walter ha un diametro di circa 120 chilometri con dei picchi centrali e crateri chiaramente per apprezzare i vari crateri bisogna riuscire a poterli osservare quando la luce è radente perché come abbiamo visto in alcune zone quando è troppo illuminata non si perde il senso del rilievo mentre quando è radente vengono messe in evidenza le parti interne dei crateri e anche l'ombra che proiettano all'interno ecco questa è una foto che di un astrofotografo Fabio Martina che si è iscritto da poco al nostro gruppo di astrofotografi e ha ripreso gran parte del primo quarto di luna e ha segnato le zone di due allunaggi questa al centro di questo cerchio giallo è quella dell'Apollo 11 il primo sbarco sulla luna famoso mentre questo è l'ultimo in questa zona adesso concludo con una curiosità facendo un video sulla luna e guardando i vari fotogrammi mi sono trovato questo intruso che data il periodo che era l'immagine e l'ora perché non era ancora notte fonda dalla silhouette si presume che possa essere un rondone cosa può caratteristica ogni tanto capita che passino degli aerei passino altri tipi di uccelli la stessa stazione spaziale sono foto un po' caratteristiche a questo punto io non avrei altre cose da farvi vedere e ripasserei a chi doveva parlare ancora a Luigi se non sbaglio sì va bene va bene abbiamo ancora la togli pure la condivisione e queste fotografie ci ha voluto parecchio parecchio lavoro per per riuscire a a scattarle tutte a lavorarle cioè fare una fotografia astronomica anche della luna non è così immediato perché per fare una bella fotografia come quelle che ci ha mostrato Franco c'è parecchio lavoro parecchio impegno sì molto dipende dalla turbolenza atmosferica a volte si riescono a fare quando è particolarmente ferma anche belle foto con singoli scatti però specie noi che siamo vicini al mare abbiamo sempre molta turbolenza che è proprio indotta dal mare che è un termoregolatore ma è un po' come un calorifero sempre in funzione e quindi ci penalizza vai pure vai va bene allora io proseguo allora abbiamo fatto questa questa presentazione intanto nella prima parte abbiamo parlato così genericamente della luna che cos'è quanto è grande eccetera abbiamo visto le fotografie dei dei crateri dei mari le fotografie che ci ha mostrato Franco adesso invece facciamo una parte che è leggermente più tecnica però è una curiosità no la luna ha degli effetti sulla terra lo sappiamo e uno degli effetti più importanti più più noti è quello delle delle maree le maree in tema astronomico sono importantissime tanto per intenderci il fatto che il livello del mare cambi i cambi nel corso della giornata il mare lo vediamo salire e scendere è un effetto della marea ma le maree in ambito astronomico hanno un'importanza molto grande che va al di là del semplice effetto sul mare a questo punto parto con una nuova presentazione ve lo dico subito parte con con una formula matematica non spaventatevi perché in realtà non dobbiamo non dobbiamo andare più più di tanto nel dettaglio andiamo semplicemente a a capire il significato principale di questa allora questa qui ho messo subito una immagine con delle barche che apparentemente sono abbandonate sul terreno in realtà se uno guarda con attenzione questo è un molo e le barche sono rimaste sul terreno semplicemente perché il mare se n'è andato via questo è l'effetto più più evidente delle maree come nascono le maree la spiegazione viene da dalla dallo studio della della forza di gravità semplicemente la la forza con cui si attraggono due corpi qualunque e in questo caso un corpo più grande che è la terra e un corpo più piccolo che è la luna dipende dal prodotto quindi dalla moltiplicazione delle loro masse quindi più sono grandi questi due corpi e più la forza con cui si attrirono diventa grande e dipende dall'inverso del quadrato della distanza in buona sostanza più sono lontani i corpi e più la forza scende scende velocemente perché scende con il quadrato della distanza significa che se noi abbiamo a parità di due corpi abbiamo una certa distanza se noi la distanza la raddoppiamo la forza diventa un quarto se la distanza diventa tre volte tanto la forza diventa nove volte più bassa e così via quindi l'effetto della distanza è importante a noi interessa ricordare solo che gli effetti di marea e quindi le forze sono più intense se i corpi sono grandi e sono vicini e sono più deboli se i corpi sono più lontani allora qui abbiamo uno schema abbiamo sulla sinistra la terra che è più grande della luna e la luna non è in scala questo perché l'ho dovuta ravvicinare però serve a esagerare l'effetto a capire meglio come funziona questo processo la luna l'abbiamo sulla destra ora noi non ci curiamo tanto di cosa succede sulla luna guardiamo gli effetti su alcuni punti alcuni punti disseminati sulla terra in particolare ne abbiamo uno diciamo rivolto il punto più vicino alla luna rivolto verso la luna uno al punto centrale possiamo immaginare che sia il centro della terra e un punto che invece è il punto più lontano dalla parte opposta dopodiché abbiamo altri due punti uno in alto e uno in basso andiamo a vedere qual è la forza che viene esercitata dalla luna su questi punti ovviamente questo punto viene attirato dalla luna quindi ha una forza che punta leggermente verso il basso questo che è in basso invece ha una forza che della stessa entità però è girata più verso l'alto come dicevo questo è il punto più vicino alla luna quindi è attirato direttamente verso la luna con una forza molto intensa all'opposto l'altro punto è quello più lontano quindi è attirato con una forza molto meno intensa e il punto centrale con una forza che è intermedia una via di mezzo tra queste ultime due allora vediamo che in questo caso è importante considerare che la terra non è un punto materiale i fisici tendono a concentrare per semplicità i loro calcoli idealizzando i corpi celesti come avessero la massa concentrata solo in un unico punto qui invece diventa importante considerare che la terra ha una certa dimensione adesso lasciamo perdere la luna che è molto sulla destra non la guardiamo più e guardiamo soltanto questi punti nel dettaglio per il punto in alto dicevamo che è attirato con una certa forza verso la luna che è qui al di fuori dello schermo questa forza però viene può essere scomposta vuol dire che in realtà è formata da due componenti che sono una componente orizzontale che in questo momento non ci interessa molto e una componente verticale che punta verso il centro della terra in maniera in maniera analoga il punto che è sul basso è simmetrico rispetto a questo primo punto ha una forza che è scomposta a una componente orizzontale più o meno verso la luna e una componente verso il centro della terra quindi notiamo questo per il punto il punto in alto sente una forza che è diretta verso il centro della terra verso il basso il punto che è in basso anch'esso risente di una forza verso il centro della terra però punta decisamente in alto adesso facciamo un salto che è leggermente più complicato guardiamo i punti che sono invece sulla linea centrale abbiamo detto che quello di destra è attirato molto di più quello di sinistra è attirato nella stessa direzione con lo stesso verso ma un po' di meno e il punto centrale è attirato con una forza intermedia adesso facciamo un salto immaginiamo di essere seduti esattamente nel centro della terra quindi di essere sottoposti a questa forza che noi vediamo e osserviamo dal centro della terra osserviamo gli altri due punti quello che abbiamo a destra e quello che abbiamo a sinistra il punto che è a destra è attirato verso la luna di più di noi per cui ci appare stirato verso la luna come se venisse avesse una forza che tende a portarlo via verso la luna il punto che invece è verso sinistra che è dal lato opposto viene attirato con una forza che è più debole di quella che sta attirando noi quindi è apparentemente a noi sembra che venga spinto via che venga spinto nel verso opposto quindi in termini fisici matematici questo si traduce nel dire che prendendo come riferimento il punto centrale noi andiamo a sottrarre questa forza quindi questo vettore anche da tutti gli altri quindi dal punto di vista relativo per il punto centrale vede il punto di destra come se fosse spinto verso la luna e cosa che sembra incredibile gli appare che il punto di sinistra come se venisse spinto via quindi da questo punto di vista ci appare ma non è così ci appare che che la forza di gravità in realtà diventi quasi una forza che anziché essere attrattiva che respinga se noi mettiamo insieme queste considerazioni che abbiamo fatto su questi punti con quelle che abbiamo fatto in precedenza sul punto di sopra e di sotto che tendono a essere attirati di più verso il centro della luna il risultato netto è che rispetto alla forma diciamo sferica perfetta iniziale il corpo quindi in questo caso la terra si deforma e diventa molto più allungato quindi diventa un corpo quasi elissoidale un po' allungato ovviamente la terra è formata da rocce metalli e quindi queste deformazioni ci sono ma sono di piccola entità però se noi immaginiamo quello che succede sull'acqua sugli oceani sui mari beh cosa succede hanno molta più possibilità di muoversi e di dilatarsi e quindi otteniamo che la parte di oceano che è nella zona sotto la luna che vede la luna molto alta sopra di sé vede anche il livello dell'acqua salire mentre quando siamo sei ore prima o sei ore dopo il livello dell'acqua è molto più basso la cosa che appare non subito intuitiva è che anche dalla parte opposta quindi quella che non vede la luna perché ha la luna sotto i propri piedi il livello dell'acqua sale questo è il motivo per cui l'alta marea e la bassa marea si ripetono ogni 12 ore circa quindi abbiamo una alta marea dopo circa 6 ore abbiamo una bassa marea altre 6 ore un'alta marea e poi una bassa marea quindi abbiamo nell'arco di una giornata due volte l'alta marea e due volte la bassa marea in realtà bisogna considerare che la luna mentre passa la giornata si sposta un pochino rispetto alla terra per cui il sorgere della luna non è ogni 24 ore ma ogni giorno ritarda di quasi di circa 50 minuti e questo è il motivo per cui le alte maree e le basse maree non si ripetono esattamente ogni 12 ore ma si ripetono ogni circa 12 ore e mezza 12 ore 25 minuti questo perché mentre c'è tutto questo processo di alta bassa marea la terra ruota ma la luna anch'essa si muove nella sua orbita intorno alla terra quanto sono questi movimenti i movimenti sono piccoli i movimenti sono dell'ordine sulla crosta terrestre quindi sulle rocce dei 20 30 40 centimetri di non di più mentre nel nel pieno degli oceani le escursioni sono fra i 50 centimetri e i due metri però questo nel mezzo dell'oceano dove non c'è l'influenza delle terre emerse quando questa onda grande di marea quindi un'onda alta circa due metri sull'oceano si sposta abbiamo che a seconda di come è fatto il fondale come sono fatti gli oceani se si incanala in certi estuari in certe gole in certe baie i livelli del mare possono salire e scendere moltissimo addirittura oltre 10 12 metri e ci sono esempi famosi come abbiamo qui negli Stati Uniti dove vediamo delle barche appunto come vedevamo all'inizio che sembrano appoggiate sul fondo marino e il mare molto lontano dopo qualche ora il livello del mare sale e le barche galleggiano e il molo in gran parte è stato circondato dall'acqua e ne emerge solo una piccola parte talvolta questa onda di marea che invade che ritorna a riempire diciamo le baie o gli estuari crea delle onde che alcuni appassionati vanno a cavalcare con il surf poi ci sono i casi più il caso più famoso del Mont Saint-Michel in Francia che è questa collina che quando c'è la bassa marea è circondata dal fondale marino quindi da un terreno dove c'è acqua ci sono fanghi ci sono vedete alcune rivoli alcuni piccoli laghi e quando viene l'alta marea diventa praticamente un'isola che è congiunta alla terraferma solo da da un ponte però per essere precisi e essere attenti vediamo che succede qualche cosa di più rispetto a quello che vi ho raccontato cioè i punti centrali non sono perfettamente allineati con la luna dove c'è il massimo dell'alta marea non è perfettamente allineato con la luna questo perché perché la terra è un corpo che ha una certa come dire inerzia viene sollecitato dalla forza della marea della luna però ha una certa elasticità per cui si deforma e siccome ruota intorno al proprio asse praticamente questa parte che viene allungata della terra che viene un po' vagamente a una forma tipo palla da baseball viene trascinata in avanti proprio dalla rotazione della terra la luna compie una rotazione intorno alla terra in circa un mese diciamo circa 27 giorni la terra compie un giro su se stessa in un giorno quindi la rotazione della terra è molto più veloce della rotazione della luna della rivoluzione della luna intorno alla terra quindi questa parte che si è allungata a causa della marea tende a essere trascinata in avanti e qual è il risultato? il risultato è che questo punto dove c'è la massima marea in realtà ora ha una forza che punta leggermente verso il basso è più intensa di quella del punto lontano non è più allineata esattamente con la luna ma è leggermente verso il basso il punto diametralmente opposto non appunto non è non ha più una forza diretta lungo che passa per il centro della terra ma ha una forza che punta leggermente verso l'alto è più intensa questa forza diciamo del punto che è dal lato della luna perché è più vicino alla luna e quindi queste due forze creano quella che in termini fisici viene detta una coppia di forze in sostanza un insieme di forze che si oppongono alla rotazione della terra quindi il fatto che la terra ruoti più velocemente crea cioè sposta questa deformazione e si genera una una forza una coppia antagonista una coppia che tende a frenare la terra ora ho detto che la deformazione è piccola diciamo di poche decine di centimetri della crosta terrestre però questo è sufficiente nel tempo a generare delle forze che rallentano la rotazione della terra e quindi diciamo che ogni secolo più o meno è stato misurato che il rallentamento è di circa fra 1,4 1,7 millisecondi quindi millesimi di secondi al giorno ogni secolo siccome parliamo di millisecondi questo può sembrare un numero molto piccolo e chiaramente noi al mattino non ci accorgiamo che la giornata è cambiata di qualche millisecondo però dobbiamo considerare che questa è la velocità con cui cambia la rotazione terrestre ogni giorno quindi siccome nel corso dei secoli ci sono migliaia e migliaia di giorni nel giro di qualche secolo si possono accumulare ritardi che sono dell'ordine di svariati minuti questo è il motivo per cui talvolta di tanto in tanto quando ce n'è bisogno alla sera del 30 giugno o del 31 dicembre viene aggiunto un secondo nel tempo misurato dai nostri orologi questo per far sì che il movimento della terra quindi l'apparire il comparire del sole sia sincronizzato con o meglio che i nostri orologi siano sincronizzati con il movimento della terra quindi a mezzo giorno avremo sempre il sole che raggiunge il punto più alto nel cielo la cosa curiosa è che quando si aggiunge questo secondo proprio per risincronizzare il movimento della terra con quello del nostro orologio si passa dalle ore 23 59 59 il secondo successivo non sono le ore 00 00 00 ma il secondo successivo sono le 23 59 e 60 secondi quindi si aggiunge arbitrariamente un un secondo l'ultima volta che è successo è stata il 31 dicembre del 2016 da quando si è deciso di adottare questo metodo sono già stati aggiunti se non sbaglio 27 secondi nel corso di una neanche 50 anni questo per tenere sincronizzate le cose vi ho detto appunto che la terra rallenta però cosa succede sulla luna guardiamo velocemente questo effetto questa zona che è quella più vicina attira la luna in maniera più intensa mentre quella più lontana la attira in maniera meno intensa l'effetto complessivo è che la luna viene attirata verso il centro della terra ma poi ci sono due forze una nel senso del movimento della luna lungo la sua orbita e una in senso contrario però la forza che è lungo il movimento della terra è più grande per cui al netto c'è una piccola forza che tende a tirare la luna è come se qualcuno con una con una fune la tirasse per darle un po' di spinta cosa succede che siccome la luna è nella sua orbita libera questo si traduce in un nel fatto che viene ceduta energia alla luna e quindi piano piano la luna si porta su un'orbita che è un pochino più ampia e questo è stato misurato perché con i riflettori che ci sono sulla luna posati dalle missioni spaziali e dalle missioni umane si può misurare con grandissima precisione la distanza della luna e oggi sappiamo che ogni anno la luna si allontana di circa 38 mm da noi quindi via via è un pochino più lontana questa energia ovviamente non si crea dal nulla che cos'è è l'energia che aveva la legata alla sua rotazione sul proprio asse che in questa maniera pur non avendo un contatto diretto viene ceduta alla luna la terra ruota un po' più lentamente e la luna acquista un po' di energia e si sposta su un'orbita più esterna un'orbita più grande ultima cosa vi dicevo che la durata del giorno si allunga però non dipende la durata del giorno esclusivamente dagli effetti di marea ci sono anche effetti non del tutto conosciuti che dipendono da ciò che c'è dentro la terra che noi non vediamo dipendono dal movimenti appunto all'interno della terra del magma che si sposta risale e così via dipendono anche l'effetto dello scioglimento dei ghiacci lo spostamento dell'acqua effetti stagionali l'evaporazione dei mari incidono sulla durata del giorno e casualmente questi effetti nel corso dello scorso anno hanno portato il 19 luglio ad avere addirittura la giornata più corta più breve che ci sia capitata da quando sono misurate con grande precisione dagli orologi atomici la durata del giorno quindi il 19 luglio del 2020 è stato più breve di 1,46 millisecondi ovviamente non ce ne siamo accorti ma quella giornata è passata un po' più velocemente e questo qui è un grafico che illustra dal 1 di gennaio al 16 dicembre dell'anno scorso del 2020 quindi l'anno che è appena passato l'andamento della durata del giorno vediamo che ad aprile c'è stato il giorno più lungo l'8 di aprile la giornata è durata 1,62 millisecondi in più e poi nell'estate fra giugno e luglio le giornate sono state più brevi con il minimo toccato il 19 luglio e poi la durata ha ripreso a crescere praticamente mettendo assieme tutta una serie di di fenomeni legati appunto come dicevo prima movimenti interni il movimento dei ghiacci le piogge le stagioni e via dicendo quindi è vero che le giornate mediamente si stanno allungando l'effetto delle maree c'è è intenso e misurabile però casualmente lo scorso anno abbiamo avuto molte giornate che sono state più brevi delle giornate medie quindi con una immagine delle delle barche che appaiono in secca durante una bassa marea concludo la presentazione e quindi spero di avere dato una panoramica delle 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 maree cosa sono e quali sono gli effetti almeno quelli più evidenti sul sugli effetti della durata del giorno e dello spostamento dell'orbita della luna grazie luigi bellissima presentazione visto che sei arrivato in un campo che a me appassiona che è la misura del tempo e volevo aggiungere solo un dettaglio che noi continuiamo ad aggiungere in teoria i secondi potrebbero anche essere tolti ma questo non è mai successo e uno dei motivi è perché il secondo che noi stiamo usando è stato definito dalla da lente un peso e misure francese basandosi su delle osservazioni del 1820 mi sembra quindi in realtà quel ritardo che tu di cui hai parlato si era già accumulato per centinaia d'anni quindi quando hanno definito il secondo lo definirono in base a quelle osservazioni astronomiche quindi quando la terra stava girando nel 1820 motivo per cui ormai saremo praticamente sempre con solo secondi in aggiunta sì perché in effetti ormai il secondo è stato definito a una certa durata e la terra siccome tende a rallentare diciamo che il numero di secondi contenuti fra fra un mezzogiorno e l'altro tende ad essere maggiore quindi appunto esatto esatto e quindi quando l'han fatto sapevano già che il secondo era quando hanno definito il secondo come il numero di oscillazioni dell'atomo di cesi eccetera eccetera quel numero l'han tirato fuori dal secondo di effemeride che era basato su osservazioni che però risalivano al 1800 va bene chiusa la parentesi ipertecnica diciamo no è tecnica però siccome appunto si crea uno scostamento noi per noi a mezzogiorno ci aspettiamo che il sole sia nel punto più alto nel cielo e quindi siamo noi che dobbiamo riadeguarci risincronizzarci con con la terra perché non possiamo farne a me ma infatti la questione del secondo bisestile è ancora discusse probabilmente lo leveranno ci sono alcuni detrattori che vogliono toglierlo e dire non fa niente anche se accumuliamo qualche secondo di ritardo pazienza perché comunque genera poi problemi nei calcoli perché comunque non è prevedibile quindi tu devi per il passato è facile perché basta avere un diario di quando sono stati aggiunti ma per il futuro se io devo fare dei calcoli molto precisi nel futuro io non so perché lo decidono appunto in teoria di mese in mese poi di fatto ogni sei mesi non so quando verranno aggiunti i secondi bisestili insomma va bene chiamiamo la parete di tempo però ecco la cosa è andata un po' veloce questo secondo viene aggiunto diciamo come sottolineavi tu non in maniera programmata ma quando ce n'è bisogno cioè quando ci si rende conto che a cose fatte che c'è stato un rallentamento allora si dice ah qui è necessario aggiungere il secondo esattamente se vogliamo fare una previsione di cosa succederà fra molti anni molto decino centinaia di anni non sappiamo quanto rallenterà la terra esattamente come dicevi tu ci sono un sacco di cause che sono alcune magari sconosciute ma molto caotiche quindi assolutamente non predecibili se non sbaglio mi sembra che il secondo venga cioè la rotazione della terra venga misurata rispetto a una serie di quasar molto distanti più distanti quasar in maniera da formare una sorta di riferimento statico nell'universo quella è la misura che viene usata per decidere se la rotazione cioè per decidere se la terra sta rallentando oppure no perché serve un riferimento e come riferimento c'è questa questa serie di quasar molto distanti che servono appunto come base per un sistema che abbiamo deciso di essere fermo rispetto al quale misurare il rallentamento della rotazione terrestre la misura del tempo è assolutamente affascinante potete andare avanti fino a domani ma diciamo che abbiamo concluso per questa serata voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e ricordo anche a chi ci sta seguendo online che il prossimo appuntamento sarà il 12 febbraio avremo con noi un docente di fisica dell'università di Genova Silvano Tosi ci parlerà della storia della materia altro argomento splendido perché ci dà un'idea di come sia possibile avere una complessità tale della materia che permetta anche l'esistenza di forme di vita partendo da un universo che era praticamente fatto solo di idrogeno quindi ci raccontrà la storia di come questa materia è arrivata a essere quella che è oggi durante i miliardi di anni di vita dell'universo salutiamo quelli che ci hanno seguito sulla diretta ricordandovi il prossimo appuntamento dell'esistenza di l'esistenza dell'esistenza Grazie.